Amici carissimi, è logico che non posso ignorare che siamo vicini a Pasqua, stiamo entrando con la Domenica delle Palme nella settimana più bella, più forte e importante dell'anno liturgico. Ma io voglio avvicinarmi a questa Pasqua liturgica, uscendo un po' dalla modalità normale, che è poi data anche dal, io direi anche con un certo folclore positivo, se volete, ma di tutte le via crucis che ci sono da tutte le parti. Va bene, Però guardate questa foto, quella di Don Tonino Bello, questa è la sua tomba, che oggi, 18 marzo, avrebbe 80 anni. Oggi è il suo compleanno. Allora, amicissimo come sono stato di Don Tonino, che era il mio direttore, e io ero il suo organista quando eravamo in seminario assieme a Bologna, io dedico a lui questa trasmissione attraverso una modalità che è proprio quella che lui stesso avrebbe ed ha esercitato in vita. Don Tonino Bello, sul quale entrerà forse presto la causa di beatificazione, è un martire e ha vissuto gioiosamente il suo sacerdozio, il suo essere pieno di vita, dicevano i suoi compagni che andava in acqua meglio di un pesce, per dire che era pieno di vita. Don Tonino Bello mi aiuta a entrare nella Pasqua come lui faceva. E per poter far questo mi sono avvalso di una iniziativa in atto proprio qui a Forlì attraverso una esperienza positiva che il parroco della pianta, Don Felice Brugnoli, che ho avuto come cappellano quando ero tempo dietro il parroco, a Ravaldino, sta conducendo in maniera bella, costruttiva. La voglio agganciare allo stile di Don Tonino Bello proprio perché è necessario che la Pasqua incida sulla vita e che la nostra società non sia un gioco liturgico sulla Pasqua, ma che sia una accoglienza della croce e quindi del dovere e quindi della vita secondo l'insegnamento di Gesù. E allora eccomi qua con i miei due ospiti che vi li presento con affetto e con riconoscenza. Innanzitutto, come vi ho già detto, Don Felice Brugnoli che è il parroco attualmente alla pianta, che ha un suo collaboratore che si chiama Gian Pietro Montalti e poi vi dirò il perché e sono assieme qui da me. Dunque, qual è il motivo per cui ho scelto di entrare nello spirito della Pasqua attraverso loro? Perché stanno conducendo un'esperienza fuori che si rifà alla regola di San Benedetto e il 21 marzo lunedì sera saranno in cattedrale a Forlì proprio con questa loro manifestazione che è un ripescaggio delle regole di San Benedetto però applicate e applicabili doverosamente all'oggi. Dunque, Don Felice, grazie della tua disponibilità e grazie anche a Gian Pietro di essere venuti in trasmissione e adesso ti chiedo innanzitutto di aiutarci a capire il significato per cui così in giro stai portando questa esperienza di un canto che però è una proclamazione di una regola che anche oggi è importante. Vai! Prima di tutto diciamo che questo progetto insieme è nato perché noi volevamo meditare un po' la regola di San Francesco di San Benedetto scusate Giancarlo Biserna ha fatto la tesi di laurea in scienze religiose su San Benedetto è venuto da noi e ha detto guardate ho trovato questa regola stupenda per la vita di oggi della nostra società e la vita personale ce l'ha fatta vedere già abbastanza impostata e poi l'abbiamo meditata insieme ha entusiasmato noi proprio io per primo Gian Pietro gli altri e l'abbiamo realizzata ma non come opera teatrale ma solo come una proposta di riflessione che a noi fa bene e abbiamo notato che fa benissimo a chi ci ascolta perché dal primo minuto dura 55 minuti circa fino all'ultimo minuto in tutti i luoghi dove abbiamo presentato questa meditazione insieme nessuno si è mai mosso Don Felice è molto bello il sottotitolo di San Benedetto una regola per l'oggi ecco io vorrei che tu evidenziassi questo aggancio che non è come hai detto bene una receta del passato ma è una realtà sulla quale riuscire a far incidere oggi regola di San Benedetto per l'oggi San Benedetto scrive questa regola quando ha 55 anni dopo aver vissuto anche in eremitaggio la scrive in un momento in cui la società romana l'impero romano era crollato c'erano i barbari c'era una situazione devastante in Italia e nel mondo allora lui parte da questo se io miglioro mi do una regola di vita coinvolgo altri proprio nel senso li coinvolgo in questa scelta di migliorare la vita personale societaria ecco incido sulla società Montecassino è diventato il punto di riferimento proprio per tutta la società perché lì ogni membro del monastero era valorizzato per quello che era accoglieva delle regole di vita cambiava se stesso e incideva anche sulla società attorno e quindi è stato un grande punto di riferimento di riforma nella società chiedo a Gian Pietro che è il tuo collaboratore anche per questa bella esperienza di vita di nuovo teatro della pianta chiedo a lui che è uomo di lavoro e quindi di società impegnata la spiegazione del fascino del motto ora et labora cioè prega e lavora che allora ebbe un grande successo e che anche oggi è significativa allora servì in effetti per ricongiungere ricompattare un po' quello che era la situazione anche religiosa e politica del tempo l'ha detto prima Don Felice eravamo in un'epoca dove c'era un po' di confusione quindi Benedetto cercò proprio di dare una regola di regolare questo rapporto fra il vivere in comunità il lavorare e il pregare tutte queste cose sono molto legate insieme non c'è una cosa se non c'è l'altra e non c'è il pregare se non si lavora e però se si lavora senza pregare il lavoro che facciamo è un lavoro che perde anche di significato oggi questo può essere ancora più attuale se pensiamo solo al fatto dell'abbandono della miseria molte volte in cui ci troviamo quando parliamo anche delle cose più materiali probabilmente è attualizzata ad oggi la regola di Benedetto ora et labora vorrebbe dire metti insieme un po' di spirito oltre quello che è materiale perché altrimenti veramente perde il significato perde tutto quello che facciamo anche per noi stessi per primo e poi per gli altri Don Felice fra le molti tue doti che io conosco bene appunto per avendoti avuto come collaboratore c'è quella che vogliamo evidenziare adesso quello della musica perché le musiche di questa rappresentazione che fate sono tue me ne vuoi parlare un po' perché ti sei così innamorato di questa regola fino a comporre le musiche per la regola per l'oggi ma io sai non sono un gran musicista però rimpellando un po' la chitarra mi capita da tanto tempo da quando ero in seminario che quando vivo intensamente un brano di Vangelo un incontro con delle persone e via dicendo sensazioni sulla natura gioia mi viene spontaneo trasformarle in musica avendo sentito questa regola stupenda che metteva al centro il proprio rinnovamento fare un esame di coscienza e dire cos'è che va bene cos'è che non va bene ecco confrontandomi con i fratelli che si ponevano le stesse domande e allargandole alla nostra società di oggi la mia vita parrocchiale con tutti i ragazzi i giovani ovunque sono ecco mi sono chiesto ma come possiamo dire che la vita è bella che ci sono dei valori ben più grandi delle semplici cose materiali e allora sono nate queste queste musiche ispirate alla parabola del figlio il prodigo ad altre sequenze di vita e soprattutto ispirate una a una poesia di un poeta vietnamita che aveva scritto nel momento in cui c'era la guerra in Vietnam ecco vuoi parlare un po' anche della struttura di questa vostra esperienza che state facendo portandola un po' dappertutto perché ormai siete presenti in varie città in questo qui ad esempio è il monte del monte di Cesena e così via ecco come ho detto non vogliamo presentarci come teatro ecco vogliamo presentarci come cinque sei amici che cercano di vivere questa realtà e la comunicano per me è come quando faccio un'omelia in chiesa quando faccio un incontro di preghiera o di condivisione di temi biblici con i fratelli in parrocchia quindi noi non facciamo non curiamo molto la scenografia ma cerchiamo di annunciare delle verità in cui crediamo e penso che per la società di oggi per la politica per i giovani per la scuola queste regole di San Benedetto siano fondamentali per riformare una società molto migliore di quella che è adesso carissimi io do molta importanza a quanto ho ascoltato adesso da Don Felice ed è il motivo per cui ho scelto di fare questa trasmissione sulla Pasqua non però presentandovi la liturgia della Pasqua ma presentandovi la modalità di accoglienza che il messaggio della morte di Cristo in croce deve dare e che è stato tradotto da Benedetto nella sua regola che ha stabilito la modalità più bella per l'Europa a tal punto che oggi San Benedetto è patrono d'Europa questa modalità di presentazione Don Felice tu vedi che la gente la percepisce rimane contenta o si aspetta altro noi abbiamo notato che c'è una grande grande attenzione perché stare attenti per un'ora a una proclamazione di un messaggio non è facile però abbiamo sperimentato abbiamo fatto in parecchi posti che nessuno si alza nessuno si mette a parlare chi ascolta è attento fino alla fine e poi ci fanno delle domande ci chiedono delle cose terminato l'incontro e abbiamo notato questo che qualcuno è già venuto a rivederla due o tre volte e ogni volta scopre qualcosa di nuovo nel messaggio quindi vuol dire che sta penetrando i cuori quello che noi vogliamo fare insomma o quello che vogliamo annunciare parole e musica quindi c'è un contenuto qui mi rifaccio ancora a Giampietro che si rifà al testo classico che è la regola di San Benedetto e poi c'è l'aspetto musicale che è quello che la rende più accontentabile anche come udito ecco questo fatto Giampietro è una caratteristica del vostro gruppo del vostro impegno ma che vi dà anche la soddisfazione di essere pienamente accolto se ho capito bene molto moltissimo riparto da dove essere affermato a Don Felice per noi è anche bello vedere alla fine della nostra lettura io direi che è una lettura un annuncio l'ha detto lei prima sentire le persone che magari vogliono approfondire un concetto piuttosto che un qualcosa che è stato letto Giancarlo che è chi ha scritto la regola il testo è molto disponibile il testo è fatto in modo che possa essere il più possibile compreso perché anche quello originale è un pochino più difficile ma oggi guardate ci sono dei concetti che sono quando si parla di manager di chi è la batte e oggi potrebbe essere un manager Benedetto quando scrisse questa regola vide proprio l'abate come il manager del monastero allora oggi è più attuale che mai Benedetto allora cercava no cercava dava a tutti l'ha detto prima Don Felice la possibilità di esprimersi poi alla fine se c'era qualcosa certo decideva lui oggi questa cosa qui lui ha anticipato di 2500 anni quello che oggi noi vogliamo chiamare il coinvolgimento cioè le decisioni prese insieme quindi è vero quello che diceva lei Don Quinto alla fine anche delle nostre letture della nostra lettura in alcune parrocchie in alcuni contesti ci siamo fermati con i partecipanti a disquisire anche su quello che avevamo letto e a cercare di capire se l'avevamo capito io sono proprio contento di questa precisazione perché ce l'ho un po' il rimorso di non entrare liturgicamente nella settimana santa che è l'apice di tutto l'anno liturgico ma io penso quante volte abbiamo fatto Pasqua liturgicamente quante volte siamo andati in processione per il Venere di Santo quante volte abbiamo celebrato anche in chiesa la lavanda dei piedi ma poi la vita ecco il punto a me sembra di capire che tutto quello che voi dite avete studiato sulla regola di San Benedetto oggi deve diventare un impegno di conversione di medesimazione nel modo col quale la chiesa oggi Papa Francesco la sta presentando al mondo intero siamo nel periodo cioè nell'anno della misericordia San Benedetto per aiutare a migliorare i suoi frati ma anche se stesso immaginava di essere un vaso un vaso delicatissimo che doveva essere pulito quindi mentre si puliva questo vaso si usava una grande delicatezza e allora la regola porta proprio a questo a dirsi guarda stiamo sbagliando facciamo in modo di migliorare portiamo questo nostro miglioramento ad altri perché unendosi a noi cambino loro e cambino la società è una regola stupenda perché come dicevamo prima mette l'uomo al centro ecco quindi la regola è fatta dall'uomo per l'uomo per il bene dell'uomo non dall'alto e quindi coinvolge totalmente la persona carissimi il riferimento che ha fatto a Papa Francesco non è la convenzione perché oggi si fa fatica a parlare della Chiesa dell'insegnamento senza parlare di lui ma quello che è importante è di come Papa Francesco sta vivendo quello che dice ed è proprio su questo ambito qui che penso che la testimonianza di Gian Pietro ci possa aiutare a portare al mondo laico questo Vangelo di regola per l'oggi è molto importante anche perché ripeto vorrei sempre riagganciarmi a quello che dicevo prima molte volte facciamo delle cose così ripetitive così automatiche che non ci rendiamo conto che alla fonte cioè a monte di questo ci sono molti ragionamenti e anche quello che noi facciamo ha degli effetti su chi c'è attorno prima dicevo del coinvolgimento Benedetto a quel tempo coinvolgeva anche i più piccoli della comunità che lui dice spesso sono quelli che hanno l'idea migliore o la verità quindi oggi questo serve anche per le nostre famiglie dove sono i nostri figli spesso si corre non si ha tempo di ascoltarli invece l'ascolto per lui era una delle regole principali e la regola che è sempre stata vista un po' bacchettona era anche per amare per voler bene per creare fratellanza all'interno del monastero e questo ha fatto molto bene sia all'interno dei monasteri ma sia anche all'esterno perché a suo tempo convertì tanta gente lasciate che vi dico un particolare che vorrei fosse incentivo per chi dice dove andiamo ad ascoltarli e quando li potremo ascoltare beh innanzitutto il lunedì 21 marzo alle ore 21 in cattedrale a Forlì potete venire tutti anche perché l'ingresso ecco come è scritto è gratuito questa disponibilità di Don Felice e di suoi collaboratori alla gratuità che poi aiuta l'emporio della solidità sociale del quale c'è un bisogno enorme per poter arrivare a chi di più ne ha bisogno deve essere un incentivo e anche un atto di stima perché normalmente quando si fa un'esibizione si cerca sempre di farla essendo pagati questa volta no il pagare forse per se c'è un prezzo che vogliamo dire è quello di far sì che il contenuto di questa regola che viene proclamata sia attuabile all'oggi quindi vi lascio a concludere la trasmissione a tutti e due la modalità di evidenziare questa opportunità di vivere in famiglia e personalmente la regola di San Benedetto prima di tutto grazie che ci invitate perché quando noi lo facciamo per voi prima di tutto lo facciamo per noi stessi riviviamo e rimeditiamo questi valori il fatto di farla gratuita è importantissimo quindi non ce ne si ha e da pagare niente io non deposito le mie canzoni alla si ha perché voglio che quando le canto sia tutto gratuito quindi è importante capire che quello che abbiamo che siamo è tutto tutto dono di Dio per il bene dei fratelli quindi niente mio è di Dio e quello che ho è dei fratelli e quindi finché Dio ci lascia la vita cercheremo di vivere al servizio dei fratelli Gian Pietro io aggiungo che essere lì lunedì sera o quando abbiamo fatto altre cose e riuscire a portarci via un pezzettino di quella regola da poter contestualizzare o nella nostra famiglia o nel mondo del lavoro o con chi ci sta vicino secondo me è già tanto quindi per me vale la pena solo per questo io che cosa posso dire se non grazie a Don Felice ai suoi collaboratori perché è un'esperienza simile che viene portata a una valenza catechistica io sento l'impegno anche dell'ufficio catechistico di Cesano catechistica per fare in modo che la verità ecco non sia qualche cosa di intellettuale per chi studia la verità è pane la verità è alimento la verità è il punto di riferimento della nostra crescita e qui Papa Francesco non potrebbe non possiamo non citarlo perché quotidianamente ci dà un pane cioè pagnotte da far nostre con un cibo che è proprio quello del Vangelo ed è la testimonianza della sua vita io ringrazio molto Don Felice e Gian Pietro e gli do la parola per concludere un'ultima cosa proprio riagganciandomi a quello che ha detto Don Quinto noi siamo disponibili a venire in qualsiasi parrocchio in qualsiasi gruppo anche per 5-10 persone sempre gratuitamente per poter comunicare a voi questi valori che abbiamo scoperto noi quindi chi lo desidera noi siamo disponibili e ripeto sempre gratuitamente quindi anche per poche persone Carissimi è bello da parte mia aver capito che la Pasqua non è un rito la Pasqua è vita e la vita è fatta di queste espressioni in collaborazione di comunione di solidarietà di studio e di prospettiva per il domani auspichiamo che la Pasqua che liturgicamente sta per arrivare in tutte le nostre famiglie e nei nostri cuori ci aiuta a portare in atto a mettere in atto un po' di quello che è lo spirito della regola di Benedetto perché è la regola per l'oggi come voi avete segnato quindi non è un ricordo degli anni passati grazie grazie Don Felice grazie Gian Pietro e auguri di buona Pasqua per tutti e ci risentiamo la prossima settimana auguri arrivederci grazie a tutti